Torna la Maratona del Golfo Capri Napoli in programma domenica 4 settembre. È la 57esima edizione della storica traversata natatoria che unisce l'isola azzurra ed il lungomare di Napoli. Quest'anno sarà la ventesima dalla ripresa nel 2003. La gara sarà valida come tappa finale della nuova Ultramarathon Swim Series, un nuovo circuito mondiale che porta nuova attenzione sulle storiche maratoni acquatiche mondiali. È sempre una grande emozione. Quest'anno per me sarà la ventesima volta che organizzo la Capri Napoli. Si arriva ad un numero ancora più consistente, 57 edizioni, un vero e proprio patrimonio della città. Abbiamo come sempre in gara tantissimi nuotatori in forma da tutto il mondo che dopo per qualcuno le delusioni degli europei di Roma, come proprio Mario Sanzullo, ma non solo, dove la gara su 25 km a causa del cattivo tempo è stata interrotta senza segnare le medaglie, erano l'opportunità qui a Napoli di rifarsi e ovviamente di aggiudicarsi una delle gare più importanti del panorama mondiale. È una gara leggendaria, ho sentito tante di quelle storie su questa traversata e diciamo che è arrivato il mio momento, è arrivato a 29 anni, è arrivato il momento di partecipare a questo grandissimo evento e ce la metterò tutta. Come da consuetudine la gara partirà da Marina Grande, dalle Undine Biciclub ed arriverà a Napoli al Molosiglio con il villaggio Accoglienza che sarà realizzato presso il Circolo Canottieri. Lo sport a Napoli è fondamentale, uno strumento naturale come quello del mare deve necessariamente essere utilizzato, lo utilizzeremo anche per fare altre iniziative relative al mare e il mio intento, l'intento della nostra giunta è quello di riportare al centro lo sport a Napoli e di farne anche uno strumento veicolo di turismo e di cultura. In gara ci saranno 20 atleti in rappresentanza di 7 nazioni che gareggeranno a Napoli dopo i recenti mondiali di Budapest di giugno e gli europei di Roma di agosto. L'evento assegnerà per la quinta volta il trofeo Farmacosmo. La partenza è domenica 4 settembre, alle 10 inizieranno i preparativi finali, la presentazione, poi la partenza vera e propria sarà alle 10.30 con l'arrivo a Napoli che credo possa essere previsto con il mare che ci attendiamo a partire dalle 16.30-17.